È difficile liberare gli uomini dalle false opinioni. Questo è l'argomento di un brano tratto dal sistema della natura di Paul Henry Thierry Conte d'Olba, nel quale appunto si interroga sul perché gli uomini siano così attaccati ai propri pregiudizi. Finché gli uomini, intestarditi nelle loro opinioni religiose, andranno a cercare in un mondo immaginario i principi della condotta che devono tenere quaggiù, non avranno affatto principi. Finché essi si ostineranno a contemplare i cieli, cammineranno a tentoni sulla terra, ed i loro passi incerti non incontreranno mai il benessere, la sicurezza, la tranquillità necessari alla loro felicità. Ma gli uomini, resi dai loro pregiudizi ostinati a danneggiarsi, sono in guardia contro quelli stessi che vogliono procurare loro i più grandi beni. Abituati ad essere ingannati, sono in continui sospetti. Abituati a diffidare da se stessi, a temere la regione, a considerare pericolosa la verità, trattano come nemici quelli che vogliono rassicurarli. Premuniti di buon'ora dall'impostura, si credono obbligati a difendere accuratamente la venda con la quale gli si coprono gli occhi, ed a lottare contro tutti quelli che tentassero di strapparla. Di conseguenza, l'Atero è considerato un essere malefico, un avvelenatore pubblico. Colui che osa svegliare i mortali da un sonno letargico in cui le abitudine li ha gettati, passa per un perturbatore. Colui che vorrebbe calmare i furori frenetici, passa per un frenetico lui stesso. Colui che invita i suoi associati a spezzare le catene, sembra solo un insensato e un temerario da prigionieri, i quali credono che la loro natura li ha fatti unicamente per essere incatenati e per tremare. In forza di queste prevenzioni funeste, il discepolo della natura è comunemente accolto dai suoi concittadini come l'uccello lurubre della notte, che tutti gli altri uccelli, quando esce dal nido, perseguitano con odio comune e con grida differenti. Grazie a tutti.